e allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono gatz734 e quest'oggi questo è un video un po diverso vi spiego direttamente la situazione non troppi giri di parole troppe cose non mi va di farli quindi vi spiego sono sì credo quattro settimane quindi un mese più o meno è un mese che sto provando ho adottato una nuova tecnica per fare video ossia ho deciso di suddividere il canale in giornate lunedì una cosa martedì un'altra cosa mercoledì un'altra e così via però mi sono reso conto che così non funziona mi sono reso conto che in questo modo sto perdendo da tutti i lati non sto riuscendo a mantenere quello che faccio su castle clash non sto riuscendo a volte a mantenere la parola perché magari ho detto sabato uscirà questo video come oggi appunto avrebbe dovuto uscire un video sulla verità sugli eroi volevo tantissimo farlo ma sto avendo una situazione particolare quindi non sto avendo il tempo di registrare di editare come vorrei e sto cercando allo stesso tempo di portare due video al giorno però non è facile ho un sacco di cose a cui pensare ho meno tempo nel quale posso lavorare al computer nel quale posso registrare sto facendo anche meno attenzione all'editing quindi vi chiedo scusa per questo vi chiedo scusa perché ci sto mettendo più tempo a fare le cose e non stanno riuscendo bene come vorrei ho degli altri giveaway da fare o due tre account non lo so comunque devo preparare questi giveaway è veramente voglio darvi questi account voglio voglio migliorare quindi vi chiedo di portare un po pazienza veramente io mi ci sto impegnando tantissimo mi sto spaccando almeno otto ore al giorno dietro questo computer dietro ora anche dietro questo microfono e sto cercando di migliorare le cose ogni giorno sto cercando veramente di migliorare il mio canale perché veramente voglio riuscire a crescere vi chiedo soltanto un po di pazienza domani è domenica quindi sì da domani sì ok mi metterò sotto lavorerò tutta la notte ma ce la farò da domani vi comincerò con un nuovo tipo di calendario diciamo ogni giorno un video di castle clash può essere un video di rollate può essere un video stupido può essere un video non lo so interessante ogni giorno un video di castle clash allo stesso tempo ogni giorno oltre al video di castle clash porterò un altro video o almeno cercherò di portare due video al giorno sperando che la situazione nella vita reale diciamo me lo permetta vi ringrazio ragazzi per il supporto che continuate a darmi sotto i video vedo che cominciano a piacervi anche altri video oltre castle clash e questo mi rende veramente molto felice perché castle clash è semplice castle clash è diciamo il mio cavallo di battaglia sono partito da castle clash ho fatto quasi 300 video forse solo di castle clash e poi dal nulla sono passato da castle clash a ehi vi mostro la mia libreria la mia spada come gioco ai videogiochi la mia prima mob lo so che ero scarso nella prima mob tranquilli quindi è un po un cambio troppo drastico è troppo drastico me ne sono reso conto e voglio mantenere le due cose voglio mantenere i video su castle clash voglio però allo stesso tempo fare i video su qualcos'altro così ogni giorno porterò un video di castle clash ogni giorno porterò un video non di castle clash doppio lavoro doppia fatica e mi auguro doppio apprezzamento questo non lo so nel dubito però per oggi ragazzi vi chiedo soltanto di avere pazienza e niente tutto qui capita a tutti di avere dei periodi non buoni e cerchiamo di non farlo pesare sul canale questo video ragazzi giunge al termine io spero vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like un commento un like un commento e soprattutto se ancora non avete fatto ad iscrivervi al canale ci vediamo come sempre nel prossimo video sia domani doppio video quindi castle clash non so cosa porterò e qualcos'altro non ho idea abbiamo da fare clash royale o da iniziare metal gear o da giocare con tantissimi giochi ovviamente tantissimi giochi a cui giocare quindi da domani doppio video castle e clash è qualcos'altro ogni giorno spero che questa iniziativa vi piacere ragazzi quindi ci vediamo domani ciao a tutti e grazie per il supporto